Spacciava eroina nella sua abitazione nel progetto case di Sant'Elia, ma non solo, incurante del fatto che lì ci fossero i carabinieri, anche davanti al comando dei carabinieri di via Beato Cesidio all'Aquila. Per questo un 34enne aquilano è stato prima denunciato, ma poi arrestato, dai militari del nucleo operativo e radiomobile, coordinati dal tenente Maximiliano Papale. Il primo fatto si riferisce alla notte tra il 14 ed il 15 luglio scorso, quando dopo numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dai carabinieri presso i progetti case del quartiere di Sant'Elia per prevenire e reprimere reati predatori e lo spaccio di stupefacenti, hanno notato movimenti sospetti in uno degli alloggi del progetto case. Controllato l'ennesimo giovane che usciva da quell'appartamento, i militari hanno poi trovato in suo possesso una dose di eroina da 0,2 grammi. Le successive verifiche hanno fatto emergere che l'abitante era proprio il giovane aquilano, con pregiudizi per reati afferenti agli stupefacenti in passato. Dunque i militari hanno proceduto con la perquisizione domiciliare, dove sono state rinvenute altre tre dosi di eroina da 0,2 grammi l'una e 10 ricette mediche in bianco della regione Abruzzo. Pertanto è scattata solo la denuncia per possesso ingiustificato della documentazione medica, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per ricettazione. Dopo qualche giorno però, gli stessi agenti che avevano eseguito la perquisizione hanno notato il 34enne davanti alla caserma di via Beato Cesidio, mentre cedeva un piccolo involucro ad un altro uomo, a cui è stata trovata poi una dose di eroina. Colto in fragranza di reato, il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato condannato a otto mesi di reclusione e rimesso subito in libertà con pena sospesa.